Queste vie, sia la castagna che la via dei ragni sono una figata, sono bellissime perché sono delle linee, a me stai parlando, sono delle linee della madonna, capito? Cioè che vanno su, cazzo la via dei ragni è misile, questa fessura che taglia tutta la parete su dei magnaghi, puttana è lì, figa, era lì da fare, figurati, un bastardo senza gloria come me, è lì da fare, vaffanculo la faccio, è uguale la castagna, era lì da fare perché parte dal terrazzino della normale, c'è un po' una ravanata andare a prenderla, però era lì che ti guardava e era lì da fare. Grazie a tutti! Le vie sono bellissime, sono dure, sono dure, è giusto, sono dure il giusto, sono dei legni, cosa vuol dire il giusto? Sono dei legni, come devono essere le vie, i gradi vanno guadagnati, no? E poi... Le protezioni fanno cagare? Ma no, le protezioni sono buone. Fan cagare? Le protezioni sono buone. Fan cagare? Le protezioni sono buone, dai, non vendiamo cagate, Ricky, porco diaz, le protezioni sono buone, minchia. Cioè sono questi chiodi a pressione, sono collegati, tengono, ci sono anche saltato giù, tengono. Ma no, tengono, figa. E basta così. Basta. Una lunga serie no, però la prima di tutte le vie ancora più importanti che ci sono da liberare in linea, è un progetto che stiamo cercando di portare avanti, per visitare in chiave moderna quelle che sono le vie, le vecchie vie storiche per venerdì dici anni, anni 50, anni 60, anche prima la castagnata è stata aperta, anni 50, anni 60. Gabb cosa ho accontato a ciò? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.